Samsung presenta Navibot S, l'aspirapolvere robot più evoluto di sempre, la soluzione ideale per risolvere il problema delle pulizie domestiche. Samsung ha brevetato una esclusiva tecnologia di navigazione intelligente che permette di pulire pavimenti in completa autonomia, in modo accurato e veloce. Si chiama Visionary Mapping Plus e consente una mappatura fedele della casa. Grazie alla fotocamera e due microprocessori integrati è in grado di catturare fino a 30 fotogrammi al secondo della stanza in cui si trova, di ricostruire in tempo reale una mappa virtuale della casa e di calcolare il percorso di pulizia più sicuro e veloce. L'aspirapolvere Navibot S quindi pulisce metodicamente a fondo. Si muove lungo traiettore sistematiche senza fermarsi per ruotare e senza ripassare sulle aree già pulite, rimuovendo così più sporco in meno tempo. I 45 sensori in dotazione monitorano ogni suo movimento, evitando di urtare mobili, rimanere incastrato e cadere dalle scale. Ma l'intelligenza di Visionary Mapping Plus non si esaurisce qui. Il Navibot S infatti si accorge da solo quando il contenitore dello sporco da 0,6 litri è quasi pieno, oppure quando la batteria sta per scaricarsi e raggiunge in autonomia la sua stazione base da ben 2 litri. Qui Navibot S si svuota, si autopulisce, si ricarica e riprende successivamente ad operare esattamente da dove si era fermato. L'efficacia di Navibot S inoltre è massimizzata da un'ulteriore tecnologia. I sensori per la polvere rilevano il livello di sporco presente sulla superficie da pulire. Navibot S imposta automaticamente la modalità più adatta, la potenza, la velocità della spazzola centrale ed il numero di passaggi necessari per pulire a fondo ogni area della casa. E se abbiamo animali domestici in casa? Nessun problema! Navibot S è provvisto del sistema Pet Hair Care per una raccolta di capelli e peli di animali maggiore del 90% rispetto ai modelli tradizionali. Le due spazzole laterali raccolgono da entrambi i lati la polvere e la convogliano verso la spazzola centrale. Inoltre il design sottile del robot Navibot S, attualmente il più sottile al mondo, con uno spessore di soli 8 cm, permette libertà di manovra anche sotto a mobili e divani più bassi. Navibot S è anche silenziosissimo, pulisce casa velocemente e in completa autonomia. E per garantire la massima comodità Navibot S è anche programmabile. E' possibile scegliere tra 7 programmi di pulizia preimpostati che rispondono ad ogni esigenza. Basta premere il tasto sul telecomando e il gioco è fatto. Navibot S è anche ultra accessoriato. La batteria a litio garantisce ben 100 minuti di autonomia operativa. Invece il filtro EPA trattiene anche le polveri più sottili responsabili di allergie respiratorie. I comodi muri virtuali limitano il campo d'azione e stabiliscono l'ordine cronologico degli ambienti da pulire. Ma l'eccellenza tecnologica di Samsung è anche a portata di mano. Navibot S è il primo aspirapolvere robot con la app. Divertiamoci con gli amici nelle varie missioni del robot. E allora, perché comprare un aspirapolvere robot Navibot S? Mappa la casa con la precisione di 45 sensori, si svuota e si pulisce da solo. Si ricarica e riprende a pulire dal punto in cui si era interrotto. Adatta la sua potenza al livello di sporco. Passa dappertutto anche negli spazi più bassi, grazie allo spessore di soli 8 cm. È silenzioso e veloce. È programmabile. Navibot S, l'aspirapolvere robot più evoluto di sempre. Passa dappertutto anche negli spazi più bassi, grazie allo spessore di soli 8 cm.